Torna la grande musica al Teatro Verdi con la diciottesima edizione di Jets Hope. Dopo mesi senza performance l'Orchestra Jets della Sardegna riprende l'attività concertistica. Stiamo preparando i due spettacoli, in particolare il primo che andremo in scena il 23 maggio. Finalmente si riesce a ripartire dopo tanta pena. Siamo un anno che ormai l'Orchestra Jets della Sardegna non saliva sul palco, quindi sembra che questa volta ci si riesca. La rassegna organizzata dall'associazione Blue Note Orchestra inaugura la collaborazione con la cooperativa Teatro E.O. Musica alla guida del teatro di Via Politeama da qualche anno. La nuova edizione di Jets Hope si dividerà in due fasi, la prima tra primavera ed estate e la seconda in autunno. Il debutto con due progetti originali avverrà a breve. Il primo progetto che è presente il 23 maggio in due turni, dalle 11 e alle 19, è un progetto dedicato a Minor Ferguson e con un trombettista eccezionale come ospite, Andrea Tufanelli che è specialista proprio in questo tipo di espressione dal punto di vista trombettistico. Il secondo appuntamento è previsto per il 6 giugno con l'omaggio a Nat King Cole e la partecipazione della voce solista di Nick the Nightfly, a patrocinare la rassegna al Comune di Sassari. I contributi vengono dalla Regione Sardegna, dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione di Sardegna.